salve a tutti novità cambio dei regolamenti io ho abbastanza punti spero per salvarli tutti tutti e quattro i reparti quindi cominciamo con aerodinamica ok aerodinamica salvati resistenza no erano solamente no solamente un cazzo tutti i tre quali fondamentali telai aerodinamica a dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione cerca di avanzare rimani concentrato a presto 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 a presto